Pallone toccato da Balo per Emanuelson, palla per De Jong, ancora Nigel va nello spazio, Riccardino Kakà, Riccardino Kakà sull'alti al portiere, Ricky, gol! Riccardino Kakà! 1-0 per noi, il gol del capitano, il gol del capitano, il gol del capitano! Meraviglioso lancio di De Jong, Riccardino Kakà davanti a Perin, il gol del capitano! Chiamato sul sito ufficiale del milanacimilan.com, scritto Kakà non l'aveva mai segnato in Milan-Genoa, solo in Genoa-Milan, ma Dio mio, ma Dio mio, ma tutte le dobbiamo azzeccare! Va bene, Ricchi, e vai, Riccardino, Riccardino! Eccoci sull'1-0, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi! Doppietta del 22, dopo la Lazio anche il Genoa, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi! Splendido, meraviglioso il lancio di Nigellone e c'è il gol da parte di Ricchi Kakà.